Come capire che gioca, se gioca con i tuoi sentimenti? Beh, intanto una persona, un uomo che gioca con i tuoi sentimenti, la prima cosa che fa è quella di fare promesse vani, cioè dire delle cose e fare altre cose, questo è un punto fondamentale, non ti dà comunque, cioè ti percura, insomma, ti dice delle cose che poi non porta avanti, non mette assolutamente in atto, questo è il primo punto fondamentale. La seconda cosa che fa un uomo che gioca con i tuoi sentimenti si approfitta per chiederti delle cose, si approfitta per, diciamo, ottenere delle cose senza darti nulla in cambio. Ad esempio, anche forse solo sessualmente, ti invita al parcheggio del cimitero e al giovedì sera per svuotarsi, diciamo così, e ti fa credere che ti ha portato in un, come possiamo dire, in un hotel a cinque stelle. non si mette mai in gioco, cioè non si prende nessun impegno nei tuoi confronti e quindi ha questo modo di fare, ha questo atteggiamento nei tuoi confronti. d'altra parte poi ti disprezza anche, cioè cerca di umiliarti, oltraggia la tua dignità, ti fa venire meno ai tuoi valori, sempre sfruttando, diciamo così, le tue paure, soprattutto la paura di essere rifiutata da questa persona o la paura di essere abbandonata, senza renderti conto che in realtà non è che tu hai una relazione, ti fa credere che avete una relazione ma in realtà non avete assolutamente niente perché se tra voi ci fosse una relazione le cose non andrebbero sicuramente in questo modo. Quindi ecco, una persona che si approfitta di quelli che sono i tuoi sentimenti tende a comportarsi in questo modo, soprattutto lo puoi percepire anche da come ti senti tu, tendi a sentirti come una persona svuotata, come una persona sempre in tensione, insomma più che felicità e benessere ti dà disagio e malessere interagire con una persona di questo genere. Quindi fai molta attenzione perché veramente sono persone negative, sono persone nefaste, persone che non ti danno nulla di buono. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.